Ci vediamo tutti insieme al Polbar Amici, che c'è ancora? Oh, finalmente, finalmente, essendo questo ultimo giorno, lei finalmente se ne andrà via È vero, signor Polle, io sono contento di aver operato in questo fantastico ospedale visto i pazienti No, ma questo non è un ospedale, mi scusi Siamo in neurologia, no? A parte che lei intanto lavorava in altre parti Io lavoro ovunque nell'ospedale, perché io sono un jolly, come dicevo Sì, sarà anche jolly Sto partendo, caro Simi Un attimino, mi scusi, io voglio, però un attimino Come dire, sindacalizzare su questa cosa qua, in Verdoni Una volta lavora in urologia, una volta lavora in, che cosa ne so io Quando lavoriamo in ginecologia, diciamo tutti noi del mestiere, buttiamoci sul lavoro Ma mi scuso, ma non mi dica queste cose, invece diciamo le cose come sta Voglio renderla partecipe, che sto partendo Meno male, sono contento È già partito da un pezzo Va bene, quest'estate? No, dicevo che quest'estate sarò in giro per i villaggi Sì Perché so che stanno cercando animazione Ah, hai capito, bello Quindi vado a lavorare Mi raccomando, è stato bello Era una battuta questa No, no, ma lei non può capire, signor Polle Veramente, un giorno si riprenderà Per lei ci vorrà la rianimazione Arrivederci Apro gli occhi di ogni volta, penso a te sempre Con questa passione che mi assale